Ciao ragazzi, mi è appena arrivato il Tundra della DuraFly e ho preso il suo B-King. Guardiamo cosa c'è nel kit di montaggio. C'è la fusoliera, le ali, le ruote. Sono inclusi anche i galleggianti, per usare il vostro aereo al mare o al lago. Ok, passiamo ora al montaggio del carrello. Sulle istruzioni c'è un errore. Prima montare tutte le parti in metallo. Montare anche il supporto delle molle e solo successivamente inserire due fermi. Contrariamente a quanto scritto nelle istruzioni di montaggio. Non è indicato nelle istruzioni, ma consiglio di mettere un frenafiletti per bloccare quelle che sono le viti che vanno sulle ruote. Adesso il carrello è pronto. Anche il carrello posteriore va avvitato. Dietro, ok. Ok, inserire ad uno ad uno gli elevatori. Ok, è importante inserire le viti appropriate. Iniziate i due fori. Viti rigorosamente da 6 mm. Non mettete quelle da 10, altrimenti escono dall'altra parte. Ok, passiamo ora a montare le ali. Allora c'è un'asta di rinforzo in fibra di carbonio che va inserita nella fusoliera. Ok, è importante misurarla in maniera tale che quest'asta passante sia esattamente nella mezzeria. Dunque l'asta entra 32 cm dentro l'ala. Ok, è importante connettere bene le ali. Con i... in maniera appropriata. Ok. Ok, adesso che le ali sono inserite, non usate, mi raccomando, il nastro adesivo per bloccare le ali, ma mettete le viti negli appositi posti. Allora, i tiranti per bloccare le ali sono diversi l'uno dall'altro, distinzione tra left e right. Ok, adesso dovete collegare i tiranti. Il mio consiglio è di collegare i tiranti e gli elettoni prima di montare le ali sulla fusoliera, per una questione di praticità, di montaggio. Ok, inserirli bene. Inoltre, dal profilo alare, andate a misurare i millimetri e segnate quello che è il punto di gravità, il CG, che vi servirà per bilanciare l'aereo. Adesso il tundra è pronto. Grazie. 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 Grazie.